per trovarci Emma che è in diretta insieme al nostro Daniele Tigli Emma ci sono un po' 15.000 messaggi qui vuoi che te li lega tutti? mi fai un fax posso dirti che hanno scritto un sacco di persone dal Salento e anche un sacco di salentini che abitano qui dalle nostre parti grazie lo sottolino perché tu sai che anch'io amo molto la tua terra e quindi mi fa molto piacere vedere che tante persone ti sono così vicine ti riempasso la palla caro Daniele grazie caro Giampi allora noi andiamo avanti con Emma a parte i saluti anche qui in effetti Giampi hai fatto bene a ricordarvi perché la pagina è proprio sommersa imballata si dice imballata in questo momento grazie mille per l'aiuto poi abbiamo ripetato il tuo I love Romagna è verità risponde la porta aperta ricordiamo che tra poco se al Romagna Center oggi pomeriggio lo possiamo dire per radio ormai è andata sì sì no lo possiamo dire dobbiamo dobbiamo e quindi ovviamente continuerà il tuo pomeriggio di impegni no dai io non sto facendo niente dai penso non direi sei stato iperattivo sei giusto a che ora è stata la sveglia oggi? alle sette e mezza perfetto a che ora finirà questa giornata più o meno? tardi credo molto tardi però va bene beh insomma direi di sì e ovviamente noi siamo curiosi di sapere anche cosa accadrà da qui a sei mesi quando ci rivedremo no? fra due o tre settimane spero di tornare a trovarsi ancora bella domanda bella domanda no? dopo dopo un po' di impegni che mi vedranno insomma così sulla scena fino a metà giugno poi sai cosa c'è? infradito pareo protezione quest'anno me ne vado al mare anch'io marino di pescoluse sì partito in tour il 16 novembre da Rimini 105 stadio esatto che peraltro stanno scegliendo sempre più artisti da zero no? ci vediamo a Parembra ragazzi ve l'ho detto assolutamente ci vediamo lì e poi tornerai a trovare anche insomma noi di Studio Detail assolutamente perfetto allora a questo punto io farei un bel applauso a Demma Marrone che come avete visto oltre a essere una persona molto carina grazie e le persone qui sanno perché insomma è sempre stradisponibile e gentile Giampi se hai un'ultima curiosità ti passo volentieri la linea noi abbiamo pronta l'ultima canzone che sentiremo che ovviamente fa parte del nuovo disco di Emma che io ascolto molto volentieri insieme a voi io ringrazio ancora mando un grande bacio ad Emma della quale molte volte ho sottolineato il valore personale non solo quello di artista quello lo conoscono tutti ma lei sta di cosa stiamo parlando io ho dei ricordi bellissimi di lei non solo io ok Emma ti mandiamo un grande bacio e abbiamo scelto di ascoltare insieme a tutti voi una traccia del tuo nuovo disco che si intitola 1,2,3 grazie Emma un bacio grazie a voi